Calcio nel campionato di Serie D, la San Cataldese non va oltre il pari a reti inviolate 0-0 contro il Licata, lo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo. I Verdi Amaranto, guidati da Pietro Infantino, non riescono a centrare il quarto successo stagionale contro una squadra ampiamente alla portata. Lo 0-0 finale premia soprattutto i Licatesi che raggiungono quota 16 in classifica. La San Cataldese non riesce a tirarsi fuori dai bassi fondi della graduatoria. I risultati della dodicesima giornata. Castrovillari, Trapani 3-0, Acireale, Vibonese 0-0, Sant'Agata, Paternò 1-0, Cittanova, Locri 2-2, La Mezzia, Catania 1-1, Santa Maria, Ragusa 3-4, Real Aversa, San Luca 1-2, San Cataldese, Licata 0-0, Canicattì, Mariglianese il 30 novembre. La classifica. La prima rete dei padroni di casa con Matera. Il raddoppio allo scadere del primo tempo con Concialdi. Nella ripresa Tris di Mendola e nel finale Poker di Pellegrino. I risultati dell'undicesima giornata. Cus Palermo oratorio 0-2, Castellammare Parmonval 1-0, Enna Casteldaccia rinviata, Leonfortese Sciacca 0-1, Gela Acragas 0-2, Resuttana Mazzara 1-2, Don Carlo Nissa 4-0, Mazzarese Profavara 0-1. La classifica. Acragas 27, Don Carlo 25, Profavara 24, Mazzara 21, Enna e Mazzarese 20, Sciacca 19, Casteldaccia 15, Castellammare 14, Nissa e Oratorio 12, Leonfortese 10, Resuttana e San Lorenzo 7, Parmonval 4, Gela 3.